E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Mark. In apertura torniamo a parlare del duplice omicidio di Fano. I due coniugi sono stati uccisi con violenza e crudeltà dal figlio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Thomas Delbianco che ci fa anche il punto sull'autopsia. Sono stati uccisi con violenza e crudeltà Giuseppe Ricci e Luisa Marconi. E quanto emerge dall'autopsia effettuata sui corpi dei coniugi ultra settantenni di Fano, residenti in via Fanella 127? Re ho confesso del duplice omicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì e il figlio della coppia, Luca Ricci, 50 anni, separato e padre di due figli. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi. I sanitari incaricati dalla procura di accertare le modalità delle uccisioni hanno stabilito che l'omicida ha strangolato la madre prendendola alle spalle con un filo della ricarica del telefono, uccidendola in breve tempo. Poi è andato in camera dal padre, che dormiva visto che erano circa le due di notte. La madre si trovava in cucina perché non si sentiva bene ed aveva chiamato il figlio che abitava al piano di sopra, dove dormiva anche il figlio minorenne, chiedendogli di misurargli la pressione sanguigna. Il tempo di scendere è di decidere di uccidere i genitori. Infatti, dopo aver strangolato la madre, Luca Ricci è andato in camera, trovando il padre che stava dormendo. Ha preso verosimilmente un martello ed ha iniziato a colpirlo in testa, con violenza, ma non lo ha tramortito. L'anziano genitore ha reagito cercando di parare i colpi, a segni di colpi nelle braccia e nelle mani, per poi soccombere sotto almeno ad undici colpi di martello, che non gli hanno lasciato scampo. L'agonia è durata però diversi minuti, lasciandogli il tempo di capire tutto. Subito dopo aver ucciso il padre e la madre, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'omicida ha aperto tutti i cassetti, cercando presumibilmente il denaro che pensava vi fosse, perché sapeva che la mattina stessa doveva esserci il pagamento da parte dei genitori di circa 12.000 euro come affitto anticipato della loro ex casa venduta all'asta per pagare i debiti del figlio. Il movente potrebbe proprio essere legato a questa somma. I coniugi Ricci, nel settembre scorso, avevano perso all'asta del tribunale la casa data in garanzia oltre dieci anni prima per un prestito bancario di circa 30.000 euro al figlio, per la sua impresa di montaggio mobili dell'epoca, prestito non rimborsato. Il nuovo proprietario, vista l'insolvenza della famiglia, si era detto disponibile a lasciare l'alloggio alla coppia a patto che pagasse l'affitto di 500 euro mensili anticipato per due anni. Luca Ricci avrebbe detto che quei soldi il padre li aveva avuti da un amico. I coniugi sono stati uccisi proprio il giorno in cui avevano l'appuntamento in un'agenzia per firmare il contratto di locazione e consegnare i 12.000 euro in assegni circolari. Venerdì, l'udienza di convalida del fermo. Nel day after, la caduta della giunta Pignotti, la prefettura ha già nominato il commissario. Si tratta del vice prefetto, mentre la nostra Donatella Lappa è andata a raccogliere le impressioni degli elpidienzi rimasti di fatto senza sindaco. All'indomani della caduta della giunta Pignotti, il prefetto di fermo, Edoardo D'Alascio, a seguito delle dimissioni presentate il 26 giugno dalla maggioranza dei consiglieri del comune di Sant'Elpidio a Mare, ha adottato il decreto di sospensione degli organi elettivi ed ha nominato il vice prefetto vicario, la dottoressa Alessandra De Notari Stefani di Vasto Girardi, commissario prefettizio, con i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale per la provvisoria gestione dell'ente. Noi siamo andati a sentire gli umori e le preoccupazioni dei cittadini elpidienzi. Penso che qui è un macello, questa è la terza volta che è venuto il commissario. Allora c'è qualcosa che non va qua. Perché? Io non ho inventato tanto di politica, però non so come funziona qua. Lei è preoccupato del fatto che il commissario faccia solo la normale amministrazione? Certo che è preoccupazione. Adesso questo è quel lavoro che sta in attivo. i lavori. Il commissario non è che fa altri lavori dopo. Quelli che iniziate li fanno. Quelli altri sospende. È un casino qua. Preoccupato per la situazione qui a Sant'Elpidio a Mare con la caduta della giunta all'arrivo del commissario prefettizio? Sì, sono un po' preoccupato. Pensa che si fermerà un po' tutta l'azione? Io spero di no. Speriamo di no. Già è arrivato il commissario. È una donna. Che io sappia. Così mi hanno detto. E niente, è tutta la giunta. E purtroppo doveva succedere, insomma. Perché Terenzi ha fatto un bel gioco. Lui non poteva fare il sindaco. Ha scelto uno. Tu fai il sindaco. Ha fatto l'amministrazione. Ha fatto un po' tutto. Ha preso tutti i stranieri. No, stranieri, insomma. Tutti i centri di Sant'Elpidio. Ma cascinare, casette, dicendo, va via. E purtroppo le cose sono andate come sono andate, insomma. Perché il discorso è molto lungo. Non si può fermare, fare solo una critica. Però è un paese abbandonato completamente in mano a degli incapaci. E ora la cronaca. Dieci mesi dalla scomparsa si è avuta la conferma del ritrovamento del corpo di Angelo. 19 anni di cui si erano perse le tracce il 3 settembre scorso dalla provincia di Pesaro, dove viveva con la famiglia. Il cadavere del ragazzo era stato rinvenuto lo scorso dicembre in un casolare abbandonato, ma era in avanzato stato di decomposizione. Per cui si è dovuto aspettare i risultati del test del DNA per avere la certezza che si trattasse proprio di lui. Angelo era scomparso da Montelabate, dove viveva insieme alla famiglia nella notte tra il 2 e il 3 settembre dello scorso anno. Con sé non aveva portato nulla, neppure i farmaci che gli erano stati prescritti. Del caso si era occupata anche la trasmissione. Chi l'ha visto? E ora siamo ad Ancona, dove ha riaperto battenti la Casa Rossa, la struttura che accoglie pazienti con problemi mentali. Era stata dichiarata inagibile dopo il terremoto del novembre 2022. Sono già rientrati 6 dei 15 ospiti. Sentiamo Teodora Stefanelli. Dopo due anni si riaprono le porte della Casa Rossa, una struttura terapeutica per persone con disturbi caratteriali e mentali che si trova ad Ancona. La casa era inagibile dopo i danni provocati dal terremoto di novembre 2022, che hanno dato il colpo di grazia dopo i segni lasciati dal sisma di sei anni prima. Le prime persone sono rientrate, ma quello che ci sarà dietro è la sinergia che troveremo e che abbiamo già trovato con il Comune, abbiamo contatti già con l'Università, abbiamo contatti per utilizzare tutto quello spazio di circa 8 ettri di terra che abbiamo intorno per creare l'opportunità a questi ragazzi di poter, che saranno soprattutto una fascia di ragazzi giovani e che saranno attenzionati, ma per poterli rimettere nel mondo del lavoro e quindi poter avere dell'opportunità. Quindi è un progetto che parte dalla Casa Rossa, ma si allarga sul territorio e soprattutto utilizzando degli spazi che sono un gioiello per la città di Ancona e faremo di tutto per utilizzarli al meglio e mettendo a disposizione non solo di questi ragazzi, ma anche della popolazione perché sarà un modo per essere integrati e per integrarsi al meglio. Dopo mesi di lavori e 200.000 euro spesi, finalmente la dimora che si trova sopra l'ex crass potrà dare nuove speranze e opportunità agli ospiti. Anche perché, dicono gli esperti, le malattie mentali sono un problema drammaticamente quotidiano che colpiscono fasce sempre più giovani della popolazione. Siccome c'è una domanda molto importante per queste nuove patologie, anche dopo gli anni del Covid, diciamo che è una risposta fondamentale per la città di Ancona. In questo centro i pazienti rimangono al massimo per sei mesi, poi vengono allocati in appartamenti con più soggetti che hanno bisogno di stessi trattamenti e poi generalmente vengono restituiti alle famiglie. Diciamo che questa struttura va a allenire gli sforzi di tante famiglie che si trovano a fronteggiare questi problemi, ma soprattutto mi piace ricordare il recupero, l'importante recupero di tantissime persone che sono tornate alla vita sociale. E questo non solo è esercizio del diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione, ma come più volte è stato ricordato, è interesse della collettività di recuperare delle persone, riportarle alla collettività sotto ogni forma, insomma, per lo studio, per il lavoro, per tutto ciò che riguarda la realizzazione di una persona. Presidio davanti alla sede del Consiglio regionale delle Marche per dire no alla discarica di riceci nel Pesarese. La Regione ha fatto sapere agli attivisti che istruirà la pratica per valutare il vincolo ambientale, dunque per cercare di fermare il progetto. Un presidio davanti alla sede del Consiglio regionale per ribadire il no alla discarica di riceci. Lo ha organizzato il comitato che si batte contro il piano, che prevede di interrare nella valletta in vista di Urbino 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. nel territorio del comune di Petriano. Nel sit-in che si è tenuto di fronte a Palazzo Leopardi è stato chiesto all'amministrazione regionale di ratificare il vincolo ambientale già predisposto per la collina di riceci. La situazione al momento è abbastanza, diciamo, semplice, perché in questo momento la palla, diciamo, ce l'ha in mano la Regione, perché è stato chiesto alla Regione Marche il vincolo ambientale, di porre il vincolo ambientale su tutta l'area. hanno fatto il sopraluogo, hanno riunito la commissione, la provincia ha inviato alla Regione Marche il suo parere con tutta la documentazione relativa al vincolo ambientale e la Regione, abbiamo visto, è tergiversa, sta in stand-by. Il comune di Petriano ha fatto la richiesta dal dicembre 2023, sono passati già sei mesi e ancora non si muove niente. Noi siamo qui per smuovere la Regione, per dire o sei d'accordo per fare la discarica o non sei d'accordo. Se sei d'accordo non c'è niente da fare, ma se, come dice l'assessore Agusti, che è due anni che dice sui giornali è contrario alla discarica, se è vero quello che dice, oggi ponga il vincolo ambientale, cioè si decida a porre il vincolo ambientale, riunire la commissione e fare questo atto. Altrimenti è corresponsabile e con tutti gli altri su un territorio, su tutta la provincia di Pesaro, per la costruzione di questa discarica, mega discarica di 5 milioni di metri cubi. La Regione ha fatto sapere di aver dato avvio all'istruttoria della pratica in corso e di attendere il parere della soprintendenza per poter procedere alla convocazione della prossima riunione. Dalla prossima settimana, rubinetti a secco nelle ore notturne in alcuni comuni del Piceno e del Fermano, a causa della crisi idrica, la CIP ha deciso di procedere con la prima fase di chiusura dell'acqua dalle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo. Nonostante il maltempo degli ultimi giorni, che ha determinato una diminuzione dei consumi e una stagione estiva che non ha ancora stretto il Piceno nella morsa del caldo, la crisi idrica si aggrava sempre più. Per questo motivo la CIP dalla prossima settimana procederà con le chiusure notturne dalle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo. Quella che verrà attuata è solo la prima fase di un programma volto a fronteggiare la criticità e che verrà adottata tenendo conto, di volta in volta, della risorsa idrica a disposizione e dai dati che settimanalmente vengono analizzati dai componenti del tavolo di crisi predisposto dall'azienda. Da qui la decisione di procedere con la chiusura di alcuni serbatoi che formiscono acqua in alcuni comuni dell'entroterra montano della vallata del Tronto e in alcuni di quelli del Fermano. A breve, durante la prossima settimana, si inizierà con le chiusure, come è stato fatto in precedenza, in base a quanto concordato già nei piani di interruzione del servizio con una fascia oraria che almeno al momento andrà dalle 22 alle 6 del mattino. Si inizierà con alcuni serbatoi della vallata del Tronto, del Fermano e di Acquasanta e poi vedremo un attimo come si andrà avanti. Facciamo un monitoraggio continuo, costante, perché anche per noi, proprio per il servizio idrico, per tutta la rete acquedottistica, le interruzioni creano problemi di gestione, comunque, quindi è un'estrema razio che non vogliamo mettere in atto. Quindi se viene fatta è proprio perché purtroppo non ci sono altre soluzioni. Quindi se ci fosse un cambiamento delle condizioni tale da permettere la sospensione delle chiusure, saremo i primi a desiderarlo e a farlo, a metterlo in campo. Il terremoto del 2016 ha aggravato una situazione già difficile con la portata delle sorgenti che è diminuita in maniera drastica, tale da comportare un 60% in meno di risorsa idrica disponibile. Per questo dirigenti e tecnici della CIP sono costantemente al lavoro per cercare soluzioni volte a ridurre i possibili disagi per gli utenti. Stiamo cercando di individuare anche con la protezione civile delle strategie per un piccolo prelievo alternativo proprio per l'emergenza idrica attuale. Vediamo, dovrebbe essere disponibile da fine luglio-primidi agosto, quindi dobbiamo tenere duro e gestire al meglio quello che abbiamo. La CIP ha ottenuto piena collaborazione nella gestione della crisi dalle prefetture di Ascoli e Fermo, dai comuni ed anche dagli stessi utenti, sollecitati ad un uso consapevole della risorsa idrica. Abbiamo mandato le nostre comunicazioni ai prefetti che sono stati collaborativi assolutamente, il prefetto di Ascoli e il prefetto di Fermo hanno condiviso con noi presso tutte le istituzioni e i sindaci queste raccomandazioni e a loro volta i sindaci le hanno recepite con le relative ordinanze di invito alla gestione della risorsa in maniera oculata e attenta. Devo dire che io sono, già lo vediamo, insomma, i cittadini rispondono bene, c'è un uso più attento, lo vediamo dai consumi, quindi comunque sia, io ringrazio tutta la cittadinanza che capisce l'importanza di questa risorsa. Turismo a San Benedetto e nella Riviera delle Palme, un giugno che sembra sottotono anche a causa del maltempo che non aiuta. Turisti e operatori balneari confidano sull'arrivo stabile del sole previsto a partire proprio da questo fine settimana. Ombrelloni chiusi, sguardo verso il cielo dove si addensano nubi minacciose e un turismo che nel mese di giugno 2024 non fa registrare dati positivi, come già dichiarato a Vera TV dal presidente dell'asso albergatore Nicola Mozzoni. Il maltempo ha inciso sul primo mese dell'estate, anche se i turisti, a San Benedetto, sono speranzosi sulle notizie di bel tempo previste nel fine settimana. Relax, cibo, aperitivi, vita notturna, stavolta è soddisfacente perché arriva da Milano? Sì, diciamo che noi ci fermiamo alla cena, però dopo non andiamo oltre, diciamo, però sì, ecco, il mangiare sicuramente. E cosa fate quando poi il tempo non è dei migliori? Beh, noi fortunatamente abbiamo casa qua vicino, per cui magari siamo a casa o facciamo un giro all'entroterra. La Foggia. Come mai hai scelto San Benedetto? La Puglia poi è anche una zona molto ambita a livello turistico baleare. E ormai siamo più di 15 anni che abbiamo casa qui, quindi è la nostra seconda casa. Qua sarà l'età di più di San Benedetto? La pace, l'ordine, la pulizia, comunque, diciamo, le regole, lo stare tranquilli. Si riesce comunque a alternare sole, spiaggia, quando piove oppure mai il tempo, un giri in centro, comunque si trova sempre qualcosa da fare. E infatti ci frega pareggio, perché una settimana qua è passata sotto la pioggia, a me è molto piacevole. Arrivati dalla Toscana, perché avete scelto San Benedetto? Perché un po' sono nove anni che vengo da queste parti, anche per consigli dei medici. Mi hanno consigliato il mare, però dice non a Rimini, certamente, senza togliere nulla a Rimini, però San Benedetto mi piace parecchio. Ci godiamo questi minuti, ore, che prima che oggi danno pure pioggia, quindi quanto si può veniamo al mare, dai. San Benedetto è buono, noi veniamo quasi tutti gli anni, quindi sappiamo già di cosa si tratta. Alle sue spalle vediamo dei nuvoloni, c'è sempre pioggia questi giorni, che ne pensa? Eh, ci ha portato via metà della settimana, del tempo, però speriamo nei prossimi giorni. Gli operatori sottolineano come, di fatto, la stagione turistica non sia ancora veramente partita, ad eccezione del fine settimana. Allora, la stagione ancora non è partita. È partita, ovviamente, a rilento, turisti pochi, speriamo adesso nel mese di luglio e ovviamente di agosto che ci sarà una frequenza maggiore e ovviamente noi ce la mettiamo tutta. Siamo pronti, anche se siamo pure partiti in ritardo. È una stagione un po' particolare, perché diciamo che il clima non ci sta assistendo molto, però il fine settimana comunque si lavora venerdì, sabato e domenica, pranzo e cena si lavora molto. Quest'anno molti stranieri, diciamo, fuori Europa, quindi io sono arrivati australiani, sono arrivati americani, sono arrivati canadesi. Salvata dalla musica è la storia di Benedetta Blasi, 19 anni che vive a Castelplanio e che lotta contro un brutto male. Mentre era ricoverata all'ospedale Salesi di Ancona, vedeva il mare e ha scritto un brano musicale che poi è stato suonato e cantato, divenendo la forza di Benedetta. Sentiamo. Just Don't Give Up, semplicemente non arrenderti. Quando la musica sostiene, cura, salva, è la storia di Benedetta Blasi, 19 anni di Castelplanio, affetta da neuroblastoma, che da anni lotta come una leonessa sottoponendosi a cure e terapie. Ed è proprio dentro una camera d'ospedale che Beglie, come la chiamano tutti, ha scoperto l'amore per la musica. Al Salesi di Ancona, dove era ricoverata, ad un certo punto risuona un ritornello nella testa. Da lì scatta qualcosa il desiderio di comporre una canzone che parlasse di speranza, di vita e appunto di quanto sia importante non mollare mai neppure nei momenti più bui. Just Don't Give Up. Nasce un po' per caso, grazie alla musicoterapia dell'ospedale Salesi. E lì nasce, diciamo, un progetto, ovvero quello di voler cantare e suonare al mondo è quello che era nella mia testa. Ovvero l'idea di una libertà, l'idea di un coraggio. E volevo cantare questo. Volevo proprio che la musica fosse ritmata. Cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vorresti fare? Nel mio futuro c'è innanzitutto di voler riprendere, quindi riprendere a camminare e soprattutto vedo viaggi. Vorrei viaggiare in giro per il mondo, zaino e spalla, e quindi vorrei questo per me. C'è una meta che sogni? Sì, sì. La prima meta che sogno è fare un mese in Indonesia. Insieme a Benedetta ci sono i suoi amici, coloro che l'hanno accompagnata nel progetto, offrendo le voci, l'entusiasmo e l'energia che ha contribuito in modo determinante al risultato finale della canzone. Ho conosciuto due persone meravigliose, Jay, un rapper grandissimo, lui ha rappato la parte che trovate sulla canzone, e Malia, che ha dato la sua voce meravigliosa dando un brio alla canzone. E poi c'è la mamma, coraggiosissima, che seppur indisparte osserva con orgoglio sua figlia. Il suo coraggio poi viene trasmettito stesso a me. E quindi, poi, in certe occasioni, sì, credo di essere stata anch'io che l'ho incoraggiata, però, lei trasmette coraggio a tutta la famiglia. E' un vulcano, anche nei suoi momenti di fragilità, è un vulcano. E anche quando, magari, stava tanto male, aveva tanto dolore, appena passava il dolore per qualche terapia, così, ritornava a essere felice e dimenticava tutto. Questa è la sua propria caratteristica principale che è la contraddistinta, penso. Pensa alla salute e l'appuntamento di IRCA al Teatro dell'Aquila di Fermo per presentare i dati di un nuovo progetto dedicato agli over 60 marchigiani, seguito da un'equip di psicologi, medici, biologi e statisti, la tango terapia per invecchiare meglio. Sentiamo Daniela Guerini. Pensa alla salute è il titolo dato all'incontro che si è tenuto al Teatro dell'Aquila di Fermo riferito al progetto denominato Straight, finalizzato alla sperimentazione rivolta a stimolare una longevità attiva. Finanziato dal Ministero della Salute e cofinanziato dalla Regione Marche, ha avuto la collaborazione dell'IRCA di Ancona e della scuola argentina ALAS de Tango di Porto San Giorgio. Un'equip di psicologi, medici, biologi e statistici ha coinvolto 311 marchigiani over 60 che attraverso dei test e la tango terapia ha presentato i dati di un progetto capace di unire l'aspetto ludico al valore sperimentale. Questo evento pensa alla salute perché la salute è importante e giustamente noi all'IRCA tentiamo già da diversi anni di occuparci anche di prevenzione tant'è che nel progetto Strength abbiamo anticipato l'età ai 60 anni l'età che ancora non rientra nell'anzianità però è importante la prevenzione l'educazione sanitaria rispetto allo stile di vita sano e chiaramente abitudini sane tra cui la stimolazione cognitiva e anche l'attività fisica. Un'attività fisica che passa per non essere impegnativa visto che di mezzo c'è il ballo. Esatto quindi c'è il lato ludico come diceva lei prima e abbiamo scelto il tango perché oltre a essere un'attività in gruppo ma anche che si fa in coppia ha una buona evidenza scientifica anche sul potenziamento della memoria di tipo spaziale e altre funzioni cognitive oltre ovviamente al benessere e alla qualità della vita. Quante persone hanno partecipato a questo progetto? Allora abbiamo coinvolto 311 persone che provengono tendenzialmente dal territorio fermano ma non solo anche dalle altre province della regione Marche e l'abbiamo divisi in gruppi per fare uno studio diciamo di caso e controllo proprio per vedere le differenze tra chi ha effettuato lo studio sperimentale e il gruppo di controllo abbiamo visto le differenze. Quali sono appunto i risultati di questo esperimento? Allora alcuni dei risultati perché ne abbiamo veramente tantissimi uno dei più eclatanti è stato un buon potenziamento della memoria di tipo spaziale nei partecipanti che hanno effettuato il progetto sperimentale oltre a un miglioramento dello stato dell'umore e un buon mantenimento anche della funzionalità fisica che sicuramente è molto importante per mantenere la propria autonomia e un'autodeterminazione che è sempre utile a qualsiasi età. L'IRCA si è fatto promotore di un'iniziativa interessante di stimolazione e in che modo ha potuto realizzare questo progetto? Allora l'IRCA è un istituto di ricovero cura carattere scientifico ed è l'unico istituto pubblico italiano che è proprio focalizzato sullo studio dei problemi dell'invecchiamento che ovviamente sono problemi che interessano da vicino ormai tutte le popolazioni in tutto il mondo e anche la nostra popolazione a livello marchigiano. Quindi la nostra attività di ricerca è proprio volta sia alla cura che alla prevenzione delle più importanti patologie dell'invecchiamento che includono purtroppo le patologie neurodegenerative come quelle che si intende prevenire proprio portando avanti questa tipologia di progetto. Si chiude qui la prima parte della nostra pagina informativa e dunque il TG Marche ma qualche secondo e ci ritroveremo insieme con lo sport. Grazie a tutti.